Al via la tredicesima edizione del mese del benessere dello psicologo a Bari, obiettivo quello di mettere in luce il ruolo della stessa psicologia al servizio dei cittadini, il tutto nella nuova sede dell'ordine di categoria, inaugurata anche alla presenza dell'assessore regionale al welfare Rosa Barone e che ha permesso anche di fare il punto della situazione in senso attuale, spicca su tutti il dato legato al bonus psicologo. Dal 25 luglio ad oggi sono giunte più di 20.000 richieste, soprattutto nella fascia d'età compresa tra i 19 e i 36 anni. I psicologi sicuramente hanno un ruolo centrale, da sempre ci siamo incontrati con gli ordini regionali ma anche con le associazioni stesse perché riteniamo che la loro funzione sia vitale per i nostri territori, per i nostri concittadini. Oggi siamo di fronte a una serie di iniziative da parte dei colleghi che aprono i propri studi, fanno meeting, incontri per sensibilizzare la popolazione al benessere psicologico. In un momento, come diceva lei, è abbastanza particolare che vede due grosse realtà che sono accadute nel mondo. Uno è il Covid e l'altro è la guerra in Ucraina che chiaramente stressano fortemente la popolazione e individuano nuovi disagi, nuovi modi esistenziali, nuove psicopatologie che chiaramente vanno affrontate.